Contraffazione e sicurezza del prodotto, due distinte problematiche che rientrano in un unico servizio di controllo e contrasto, da quelle due ultime e importanti operazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara che in un primo intervento nell'ambito del piano d'azione Stop Fake, da un sovraluogo in un negozio al dettaglio a Pescara è riuscito a risalire alla fornitore di Civitano 9, a marche di origini cinesi, ponendo sotto sequestro un grosso quantitativo di merce, prevalentemente orecchini, bracciali, collane e anelli sprovvisti della certificazione sulla sicurezza, in particolare della documentazione afferente ai test di laboratorio su eventuale presenza di metalli pesanti quali nickel, cadmio e piombo. In un secondo intervento, durante un controllo nei pressi della stazione di Pescara, i militari hanno individuato un soggetto che, dandosi alla fuga, si è liberato di un sacchetto contenente 2.500 griff Colmar. Sono due operazioni che, come detto bene, si inseriscono in un piano d'azione che ormai da 2-3 anni abbiamo qui avviato, nella provincia di Pescara, con un obiettivo specifico, quello di tutelare la salute dei consumatori e tutelare gli operatori economici che rispettano le regole, ciò che non accade nel caso di merce contraffatte e di prodotti non sicuri. Quello che abbiamo scoperto per l'ennesima volta in questi giorni. Allora, dal luogotenente Ruggero a Conciagliolo ci facciamo spiegare intanto per quanto riguarda le due distinte operazioni. Qui si parla di due problematiche, la contraffazione e la sicurezza del prodotto. Assolutamente sì, sono due argomenti che sembrano slegati ma sono direttamente corregati. L'etichetta è la carta d'identità. Noi andiamo oltre la carta d'identità, noi andiamo a vedere proprio l'estratto di nascita, se mi permette questo paragone, perché un singolo monile per essere venduto, così come abbiamo effettuato i sequestri in Pescara e in Civitanova, andiamo a vedere se hanno le certificazioni. Parliamo di monili, quindi parliamo di composizioni che possono avere dei metalli pesanti, quali il cadmio, il nickel, il piombo. La legge le permette, però devono essere in quantità prestabilite. E soltanto un esame di laboratorio lo può permettere. Questi esami di laboratorio, spesso e volentieri, hanno un costo molto elevato. Quindi, come diceva il mio comandante, diffidate dai bassi prezzi, perché sul prezzo di 20 centesimi di un monile non può gravare un esame di laboratorio del REACT, che permette di vedere se la quantità di rilascio del nickel o di cadmio è consentita dalla legge. Quindi un avventore, un cliente che è allergico a queste sostanze deve saperlo. Un acquisto sicuro è necessariamente un acquisto informato. Per fare questo noi agiamo su diversi livelli, che non è soltanto l'attività di contrasto. Non arginiamo soltanto l'arrivo nella provincia di Pescara di questa merce illegale, che è merce, ripeto, non sicura. Ma cerchiamo di creare un terreno di consapevolezza che permetta ai consumatori, soprattutto quelli più giovani, di effettuare acquisti consapevoli. Grazie a tutti.